Storia di bande criminali, di mafie e di persone oneste. È un viaggio attraverso le varie forme della malavita italiana. C'è qualcosa che unisce le varie organizzazioni criminali italiane? Adesso le unisce una grande collaborazione, anzi anche nel tempo una grande collaborazione. Cosa nostra con la droga, che si appoggia all'andrangheta, che sfruttano certi porti della camorra, eccetera, eccetera. Le unisce il fatto di essere il cancro di questo paese, sicuramente. Io ho voluto raccontare soprattutto l'ABC di quel tipo di criminalità. C'è la storia che dobbiamo conoscere per capire quella di adesso. La camorra e la mafia sono due organizzazioni molto visibili, anche grazie al cinema e alla letteratura. L'andrangheta, invece, è un po' meno sotto i riflettori. Perché è così poco conosciuta? Sappiamo bene cos'è Cosa Nostra, perché ci ricordiamo il padrino di Mario Puzzo, per esempio, quindi tutta Cosa Nostra americana, la piovra che l'ha raccontata. Abbiamo un immaginario su questo. E in più abbiamo avuto tanti pentiti di Cosa Nostra che hanno raccontato quello che era. L'andrangheta è sempre stata in silenzio. Non ha avuto pentiti di rilievo, ne ha pochissimi. Non ha quel fascino così mediatico di Cosa Nostra. Sono persone che se ne stanno nascoste in piccoli paesini che la gente non sa neanche dove si trovano, eccetera, eccetera. In realtà è solo adesso che ci rendiamo conto che l'andrangheta è la mafia in Italia più potente che ci sia, la più ricca, la più terribile, anche a livello europeo e internazionale. Eppure proprio dalla Calabria è arrivata una delle più grandi manifestazioni di dissenso verso la criminalità organizzata riassunta dallo slogan adesso ammazzateci tutti dei ragazzi calabresi. Poi però le cose sono anche molto fermate, non per colpa dei ragazzi, è chiaro che continuano, ma non è che poi queste fiammate di entusiasmo che abbiamo in tutta Italia, in certi momenti, di solito dopo omicidi, poi però dovrebbero continuare come un incendio perché altrimenti finisce tutto lì. In effetti danno un grande fastidio, lo si vede adesso da come la criminalità organizzata oltre a minacciare e a colpire magistrati, poliziotti, cioè quelli che ci siamo abituati a vedere in prima linea sempre, gli amministratori pubblici, locali per esempio, che sono proprio in prima linea e che si trovano macchine e case bruciate, comincia a colpire con una certa insistenza i giovani ragazzi, le giovani cooperative che lavorano sul territorio, sui beni confiscati alla mafia, gli intellettuali come appunto Saviano o Cavalli per esempio, che è un attore di lodi che ha avuto più o meno anche lui minacce molto, molto, molto importanti. Un capitolo è dedicato anche alla banda della Magliana, naturalmente si pensa subito al romanzo criminale, cinema, tv, perché la banda della Magliana ha questa fascinazione da un punto di vista narrativo? Per una sua ambiguità, secondo me, narrativa, dico, che è questa. Da una parte ci sembra di capirla bene la banda della Magliana, perché è una cosa molto quadrata, parliamo di Roma, non parliamo di posti sconosciuti, parliamo di Roma, parliamo di un certo periodo preciso, di persone precise, molte di queste sono morte, sono finite in galera, insomma ci sembra di poterla possedere questa materia. L'ambiguità però è che capiamo che non c'è solo questo, la banda della Magliana era la banda della Magliana perché aveva legami insospettabili o anche sospettabilissimi con le versioni politiche, con i servizi segreti, con parte della politica, con parte delle istituzioni, ecco che allora ci sembra di poter prendere un bandolo di una matassa e di arrivare chissà dove e questa credo che sia la forza narrativa. Poi anche la forza storica perché le cose che racconta anche De Cataldo sono tutte vere e quindi questa è veramente la banda della Magliana. Già capiamo dal titolo che nel libro si parla anche di persone oneste. C'è la storia di una persona onesta che vogliamo ricordare perché è esemplare? Mi vengono in mente anche persone che non c'entrano niente e che la loro onestà è stata quella di fare la loro battaglia di persone normali e oneste in un posto che è brutto, come per esempio la signora Ruotolo che è una signora che ha due bambini e che un giorno ne porta uno a scuola e quando ritorna da scuola viene presa in mezzo a un conflitto a fuoco tra camorristi e si becca un proiettile e viene uccisa. Chi ha fatto la signora di così eroico? Vivere la sua vita in un posto come quello senza essere né la moglie di un camorrista, né un camorrista, né una persona che si arrende. Probabilmente non voleva essere un eroe la signora, però diventa un simbolo per noi. Perché sei così affascinato da un punto di vista del prenativo da questo mondo noir, tra virgolette. Qui è proprio sapere che esiste una malattia. Nella metà oscura c'è una malattia, c'è un demonio nascosto di un mostro, un cancro che in questo caso è la criminalità organizzata, sono le mafie e sapere che ne sei direttamente coinvolto anche se ti sembra di non averci mai a che fare ma in realtà tutta la tua vita è poi assegnata da questo e sapere che è un male che potrebbe finire per uccidere il paese in cui vivi. Allora il mio interesse in questo specifico campo è questo, è quasi medico in un certo senso, quasi da psichiatra, da psicoanalista. C'è un caso italiano degli ultimi ultimamente che ti ha colpito particolarmente? Ovviamente penso ad Erba, Garlasco, Perugia, ce n'è uno che particolarmente ti ha... Alcuni non sono gialli, sono delle brutte cose che sono avvenute. Allora dovremmo guardarli non col mistero del giallo, vediamo che colpo di scena c'è, ma come il mistero della sociologia. Non dovremmo chiederci, per il caso di Cogne, stare lì a guardare troppo sulle sfumature gialle, quanto chiedersi quante volte Cogne avviene durante l'anno in Italia. Siccome avviene tantissime volte, le madri che finiscono per uccidere i figli, sono casi anche recenti, sono tante, sono più di 15 all'anno, e allora a quel punto quella è la vera cosa che interessa nei casi di cronaca, non tanto chi è stato in quel preciso caso lì.